Nel vostro universo c'è un solo Spider-Man, ma esiste un altro universo. Assomiglia in tutto e per tutto al vostro, ma non lo è. Mi chiamo Miles Morales. Ehi, ragazzino. Sei come me? Come? So che è complicato. Vuoi sapere che ti è successo? Posso insegnarti a essere Spider-Man. Come posso salvare il mondo intero? Non puoi pensare di salvare il mondo. Devi pensare a salvare una persona. Senti, Miles. È il tuo essere diverso. Che fa di te Spider-Man? Vedo una scintilla in te. È straordinario. Qualunque cosa tu sceglia di fare, andrai alla grande. Ti voglio bene, Miles. Sì, lo so, papà. Devi dire ti voglio bene anch'io. Papà, stai scherzando? Voglio sentirtelo dire. Ma siamo... Papà, ti voglio bene. Papà, ti voglio bene. Ricevuto. È ora di volteggiare come ti ho insegnato. Quando me l'ho insegnato? Non l'ho fatto. Era una battuta per fare team building. Ehi, ragazzi. Io sono Gwen Stacy. Andiamo? Quanti altri Spider-Tipi ci sono?